Le domande risolte dell'evoluzione di cui ci occupiamo nella nostra serie per il BoLive molte sono legate all'evoluzione della riproduzione per via sessuale e come si è evoluta la riproduzione per via sessuale in che modo si sono differenziati gli individui tra maschi e femmine e molte altre oggi ne parliamo con Gil Rosenthal che è professore di biologia evoluzionistica all'università del Texas A&M. Buongiorno professore e grazie per essere con noi sul BoLive. Buongiorno e grazie a voi. Dunque entriamo subito in argomento. È davvero una domanda risolta dell'evoluzione quella legata all'evoluzione della riproduzione sessuale? Quanti tipi di evoluzione sessuale oggi conosciamo che sono presenti in natura e ci sono delle modalità di riproduzione effettivamente più efficienti? Sì, la cosa è che il sesso rappresenta uno delle prime paradossi se vogliamo della biologia evolutiva perché se ci pensiamo in partenza da una popolazione di organismi che si riproducono i maschi non servono a nulla. Cioè se abbiamo una popolazione diciamo clonale di femmine che si raddoppia ogni femmina diciamo ogni anno produce due femmine crescerà molto più veloce che una popolazione che fa metà femmine e metà maschi. Allora c'è questo grande costo ecologico e diciamo che a corto termine una popolazione clonale sempre vincerà su una popolazione sessuale perché potrà crescere molto più veloce. Allora come mai in tutti gli organismi complessi la riproduzione sessuale è lo stato normale? Abbiamo certe specie, certe situazioni dove vediamo organismi multicellulari che sono clonali ma questi non durano molto o sono come tipo le Daphnia che hanno queste fasi clonali e questi episodi di sesso o sono come certe specie ibridogenetiche come le rane, rana lessone credo in Europa che durano sono specie che durano poco tempo in termini evolutivi su 100.000-200.000 anni perché perché accumulano mutazioni letali e comunque nocivi il problema è che senza la ricombinazione senza questo processo della riproduzione sessuale possono accumularsi queste mutazioni senza meccanismo per eliminarle della popolazione. Allora abbiamo questa cosa che è la riproduzione sessuale che è evoluta molto presto nell'evoluzione della multicellularità che adesso è diventato diciamo la norma negli esseri viventi. E uno degli effetti più evidenti possiamo dire della riproduzione sessuale è il dimorfismo tra maschi e femmine quindi in qualche modo l'emergere dell'evoluzione sessuale ha determinato, diciamo ha cambiato la storia dell'evoluzione se non altro degli animali eucarioti. In che modo e in che modo ha influito anche sulla selezione naturale? Allora il dimorfismo sessuale è una cosa che sorge quasi in partenza con la riproduzione sessuale. Una delle domande più affascinanti allora c'era questa prima domanda perché come mai esiste il sesso? Punto. E adesso dato che esiste il sesso come mai ci sono sessi? Come mai ci sono due generi? Come mai ce ne sono due e non sette o uno? Allora se vediamo, diciamo che io sono un po' limitato perché studio vertebrati e i vertebrati sono un po' noiosi perché ci sono ermafroditi, ci sono specie clonali dove i maschi sono facoltativi eccetera, ma in certo termine i vertebrati fanno praticamente tutti la stessa cosa. Ci sono microorganismi, protozoidi che hanno sette sessi e diversi tipi che sono incompatibili fra se stessi ma che possono andare con qualsiasi altro tipo, ma quello che vediamo in termini generali è questa convergenza in questi due sessi, uno che produce le uova che chiamiamo femmine, uno che produce i spermatozoidi che chiamiamo maschi. e quello che vediamo è che come mai non abbiamo solo due cellule identiche, come mai ci sono, si potrebbe avere riproduzione sessuale senza che ci fossero generi di morfismi sessuali eccetera, ci sono certi microorganismi che lo fanno così, hanno due cellule, due protozoidi che sembrano identici, non c'è riproduzione sessuale ma non ci sono sessi diversi, non ci sono generi e intercambiano geni e basta. Invece quello che vediamo, la cosa prevalente ovviamente, è che c'è un sesso che forma questi gameti, c'è cellule grandi, pesanti, ricchi di nutrienti, abbiamo l'estremo che è l'uovo di struzzo, che è la cellula più grande del mondo, che è enorme, e le uova stanno ferme, non si muovono. Gli spermatozoidi invece sono piccolissimi, microscopici, i maschi ne fanno milioni, e questi sono quelli che attivamente vanno alla ricerca dell'uovo in qualche modo. E questo ne possiamo pensare in termini di disruptive selection, non so come si dica in italiano, dove se ci sono, possiamo pensare in questo stato indifferenziato, questi protozoidi, ricchi di nutrienti, un po' mobili, eccetera. E se l'idea è di magazzinnare risorse per fare i piccoli, eccetera, allora se gli altri si occupano di muoversi, vale la pena, mi serve magazzinnare più risorse e lasciare che gli altri facciano il lavoro di ricercarmi. E dall'altra parte, se ci sono questi gameti grandi, pieni di risorse nutrienti, a me vale invertire meno nei nutrienti e più nel motore per andare a cercare questi gameti. E allora qualche decina di milioni di anni dopo abbiamo cellule piccole, e ognuno di queste cellule piccole non costa quasi niente produrla. Cioè nei mammiferi un maschio produce milioni di spermatozoidi in una giornata, diciamo cento volte, probabilmente parecchie migliaia di volte, più rispetto alle uova che produce una femmina in tutta la sua vita. E da questo dimorfismo cellulare, dal fatto che le uova sono costose e i spermatozoidi sono scartabili, e quindi sorge questo dimorfismo sessuale. Perché? Perché in un determinato momento, nella più parte delle popolazioni, ci saranno più femmine disponibili per accoppiarsi rispetto al numero di maschi. E allora i maschi devono fare concorrenza direttamente o indirettamente per poter accoppiarsi con le femmine. Questo poi, lei parlava di vertebrati, in alcuni vertebrati, in quelli che sono detti animali superiori, ha portato poi anche a dei comportamenti complessi dal punto di vista sessuale. Penso per esempio agli uccelli che fanno dei corteggiamenti incredibili, ma questo accade anche nei mammiferi, e anche questo si inserisce in questa sorta di selezione sessuale e selezione naturale. Come si è evoluto questo insieme di comportamenti complessi? Non è solo ristretto ai vertebrati, anche se stai a guardare la prossima volta che ti bevi un bel nero d'avola lì a Napoli o torni su a Padova a berti un prosecco, osserva le mosche. Stai attenta a guardare le mosche che fanno il loro corteggio ed è pazzesco perché sono dei piccoli organismi con dei cervelli minuscoli, ma abbiamo quasi tutta la complessità che abbiamo nei mammiferi e negli uccelli, oserei dire anche gli umani, cioè dove il maschio di drosofila balla davanti alla femmina, vibra le ali, sta rilasciando ferromone, ci sono contanti di tatto, di gusto, di olfatto, e la femmina in qualche modo sta integrando tutta questa informazione pur rilasciando lei delle ferromone e dei segnali tattili che attirano al maschio ed è una specie di danza mutua dove ci sono questi due animali che decidono e non decidono da soli perché vedrai che non c'è mai solo una mosca o due mosche, ci saranno intorno al tuo bel bicchiere di vino 4, 5, 8 mosche e la femmina presta attenzione a cosa fanno le sue amiche, chi si accoppia con chi e sono più disposte ad accoppiarsi con un maschio se la osservano prima con un'altra femmina. I maschi invece fanno il contrario, se vedo una femmina accoppiata con un maschio sono meno disposti a corteggiarla. Allora anche nelle mosche abbiamo tutta questa gamma di comportamenti sociali, segnali, diversi canali visivi, uditivi, olfattivi, eccetera. Il bello delle mosche ovviamente rispetto ai vertebrati è che possiamo fare genetica, possiamo tagliare la testa alla femmina, vedere se il maschio da corteggio è lo stesso, eccetera. Allora abbiamo questo bel sistema, da una parte semplice, un grande modello genetico, ma con quasi tutta la complessità che vediamo nei vertebrati. Allora tornando alla tua domanda originale, da dove viene tutta questa complessità? La cosa è che è il risultato di un processo coevolutivo che mette come strato sopra strato di complessità. Torniamo al punto di partenza, le nostre due cellule. Allora possiamo pensare in un sistema minimo per la riproduzione sessuale, che è una cellula, un uovo, che ha una ferromona che attira gli spermatozoidi e lo spermatozoide che ha un ricettore che risponde a questa ferromona e che lo segue. E se vediamo per esempio in microrganismi tipo clamidomonas possiamo vedere questa via molecolare da parte dello spermatozoide che riceve il segnale e viaggia attraverso questo gradiente per arrivare alla femmina. E allora quello che abbiamo da una parte c'è questa dinamica cooperativa, perché abbiamo l'uovo e lo spermatozoide che hanno questo interesse mutuo di mettersi insieme e produrre un organismo. Ma dall'altra parte, se si allontaniamo un po', possiamo pensare che gli interessi di maschio e femmina non sempre vanno d'accordo. Cioè se pensiamo in due individui che interagiscono, allora per parte dell'individuo, il partner, li interessa solo per questa interazione. Cioè domani non si vedono più e allora io cerco di massimizzare le risorse che riesco a prendere dal mio partner anche a costo del successo futuro del partner. Mentre che lui o lei vuole fare lo stesso a me. Cioè tirare fuori tutte le risorse che può per se stesso e non importa quello che mi succede a me domani o dopo l'interazione, eccetera. Questo si chiama il conflitto sessuale. Il conflitto sessuale vuol dire che c'è una specie di battaglia continua fra maschio e femmine una lotta su queste risorse e diciamo si può semplificare e pensare che in generale i maschi vogliono una frequenza di accoppiamento più alta che le femmine. E allora cosa succede? Che allora i maschi sviluppano questi meccanismi per trovare le femmine più efficientemente per accoppiarsi alla forza, eccetera. Le femmine in cambio evolvono questa resistenza dove tutto sommato fanno che costi di più al maschio. Allora può darsi per esempio che il maschio produca una ferromona che attira le femmine. Le femmine rispondendo a questa ferromona si stanno accoppiando troppo allora finiscono producendo meno uova si stanno provvivendo peggio, eccetera. Allora cosa succede? Una femmina mutante che è resistente alla ferromona e che non presta più attenzione a questa cosa avrà relativamente più successo. Allora cosa succede? Un maschio poi che ha una sua propria mutazione che produce un segnale acustico, eccetera che in qualche modo attira le femmine avrà subito un vantaggio. Se questo segnale acustico in qualche modo compromette il successo delle femmine possono evolvere questa resistenza pure al segnale. Allora c'è come una specie di arms race fra maschi e femmine che conduce a questa complessità. Un'ultima domanda durante appunto le sue parole abbiamo parlato soprattutto di vantaggi insomma della riproduzione per via sessuale ma ci sono effettivamente degli svantaggi nell'adottare questa strategia di riproduzione? Sì, esatto cioè quello che vediamo è che sorgono queste specie clonali in una scala ecologica di poche generazioni hanno sempre il vantaggio allora lo svantaggio più grande è proprio questo costo dei maschi che cioè c'è la metà della popolazione che è in un certo senso sprecato e poi c'è questo come dato a questa coevoluzione antagonista fra maschi e femmine c'è quello che si chiama genetic load ovvero che si accumulano mutazioni o diciamo impedimenti che non ci sarebbero senza questo conflitto dall'altra parte la selezione sessuale questo processo dell'accoppiamento può servire, può fare il contrario può servire come filtro cioè se sono solo i maschi stani e forti che sopravvivono e riescono ad accoppiarsi allora questo può accelerare l'adattazione e togliere questa mutazione delle terie e questo è direi forse il grande discorso attuale nello studio della selezione sessuale cioè se dal punto di vista delle popolazioni della salute e della viabilità se la selezione sessuale fa bene o fa male ci sono un sacco di sperimenti argomenti teorici a favore di una posizione dell'altra e come tutto in biologia è complicato è molto dipendente dall'ecologia eccetera ma diciamo che questa è la dialettica nel campo della selezione sessuale perché da una parte c'è lo svantaggio perché tutta questa energia che è dedicata al corteggio alla lotta fra maschi alla lotta fra femmine eccetera eccetera tutta questa energia energia che non va dedicata alla conversione di energia alla produzione di piccoli eccetera è tutto sprecato in un certo senso allora la domanda chiave è se questo pasta viene sprecato se viene compensato dal fatto che in qualche modo agisce come filtro per purificare per eliminare queste mutazioni grazie a tutti per la frequenza questo è il caso di più Grazie a tutti.